Iniziamo questa nuova avventura, abbiamo fino a 30 novembre le adesioni all'Alleanza per l'Italia, oggi con questa iniziativa regionale abbiamo voluto dare il segno di un percorso che cominciamo ora, finisce una fase di promozione, inizia una fase di costruzione di questa forza politica, aumentano l'adesione degli amministratori in questa regione, aumenta anche l'entusiasmo, speriamo di partire in un momento difficile e di coinvolgere molti cittadini.